Telequattro, buongiorno e benvenuti a questa diretta che come ormai abitudine precede il telegiornale delle 13 e 20. Adesso vi faremo vedere subito un'intervista con il professor Davide Zotti del Cobas Scuola. Il professor Zotti è intervenuto, l'abbiamo intervistato via Skype questa mattina per un servizio che andrà in onda già alle 13 e 20, ma adesso vi proponiamo l'intervista nella sua interezza, emendata soltanto dalle domande, per la questione DAD. Voi sapete che c'è stato un dietro front da parte del governo sulla automaticità della didattica a distanza, qualora così sembrava, bastava che ci fosse un solo alunno positivo per mandare un'intera classe in didattica a distanza. C'è stato appunto un ripensamento, ma secondo il professor Zotti di Cobas Scuola il solo fatto che si insista e si torni a parlare di DAD significa che da un lato il governo secondo Zotti avrebbe fallito, dall'altro che non c'è la volontà di intervenire sui veri problemi che riguardano la scuola, problemi che ove fossero risolti potrebbero dare una mano fondamentale secondo il professor Zotti anche per la battaglia contro il coronavirus. Sentiamo allora l'intervista completa con il professor Zotti, ci vediamo tra 5 minuti. Esatto, io non saprei neanche se hanno risolto il problema, nel senso che riguardo alla necessità della didattica a distanza c'è stato un andare avanti, poi ritornare indietro, non aiuta certamente a fare chiarezza su questo tema. La didattica a distanza l'abbiamo visto nei precedenti anni scolastici, due anni scolastici, perché ormai siamo nel terzo anno scolastico in cui viene utilizzata la DAD. La DAD era uno strumento di emergenza che doveva essere archiviato quanto prima, continua a essere uno strumento per una scuola che ha tantissimi problemi, per cui la DAD è solo una parziale soluzione. La scuola è forse l'ultimo dei problemi, cioè nel senso che per chi ci governa, nel senso che pensare di nuovo che con uno studente che risultava positivo tutta la classe andava in DAD, significava riproporre una soluzione vecchia che non teneva conto invece di quanto fosse importante monitorare, testare la situazione, la diffusione del virus nelle scuole e ci fa capire che questo cambiare e che il governo non aveva comunque le idee chiare o il ministero poi è intervenuto il governo, perché vuol dire che non ci si è resi conto ancora, in alcune parti, delle difficoltà che vengono create al mondo della scuola, agli studenti in primis, alle lavoratrici e ai lavoratori e alle famiglie. ci dice ancora una cosa che il governo non ha alcuna intenzione, e lo vediamo, di affrontare quelli che sono i problemi strutturali che permetterebbero di affrontare il problema del virus. Parlo delle ormai mitiche classi pollaio, cioè siamo con studenti, 28, 29 studenti in una classe dove non viene rispettato neanche il metro di distanza, il metro buccale, cioè il metro di distanza perché si può andare in deroga. Quindi la difficoltà ad arieggiare, la difficoltà ad esempio a stare in scuole dove c'è un organico non adeguato, anche per il discorso dell'igienizzazione. Pensiamo al personale ATA che era molto più numeroso l'altro anno e che quest'anno non è a disposizione nelle scuole proprio per mettere in atto tutte quelle procedure di igienizzazione. Questo balletto sulla DAD dice di uno Stato che sta annaspando di fronte a problemi che richiedono invece un approccio strutturale, un approccio sistemico. Allora bisogna dire che due anni di DAD ha portato dei cambiamenti forti nel mondo della scuola e anche tra i ragazzi. Si è perso il ritmo, si è perso il fare scuola, lo stare insieme ed è difficile e ancora è molto difficile perché stare con la mascherina, stare 5-6 ore a scuola, obbligati a mantenere le distanze che non è facile per le ragazze per i ragazzi, indubbiamente sta portando una fatica, una maggiore fatica di concentrazione e di attenzione. Se poi vediamo anche indicazioni così contraddittorie, perché prima si dice una cosa, poi il giorno dopo se ne dice un'altra, è ovvio che anche gli studenti stanno perdendo fiducia nel sistema scuola, proprio perché vedono che stiamo navigando a vista, come si usa a dire. I ragazzi penso che hanno invece proprio bisogno di continuità, di ritmi regolari, di scuole decenti, di scuole accoglienti, di aule spaziose dove è facile rieggiare, tutto questo è quasi impossibile. Allora, questo dunque per quanto riguarda la questione DAD, ripeto il governo ha sospeso una circolare e quindi si è tornati allo status quo ante, ma ne parleremo durante il telegiornale. Intanto siamo collegati telefonicamente con Massimo Romita, Assessore al Turismo del Comune di Duino. Buongiorno Romita. Buongiorno Umberto, buongiorno a tutti. Grazie tanto di essere collegato con noi. Allora, l'altra settimana avevamo parlato di questa situazione che ha un po' scombussolato, diciamo così, la giunta di Duino a Orisina. C'è una qualche soluzione, c'è qualche via d'uscita? Com'è adesso lo stato dell'arte? La situazione è un po' critica, nel senso la situazione di ieri ha dato dimostrazione che non c'è ancora una volta volontà di dialogare. Il sindaco ha voluto preferire dialogare, cercare l'appoggio del centro-sinistra, cercando i voti, piuttosto di venire a dialogare con la forza, i consiglieri che l'hanno vista fare legge ad appunto a sindaco. A questo momento purtroppo il dialogo si è rotto. Oltre due mesi che cerchiamo di trovare questo confronto con il sindaco stesso, sulle linee programmatiche, non sicuramente su altre situazioni che purtroppo non abbiamo ricevuto. Chi parla è stato accusato di cercare visibilità. Io sono 25 anni che sono consigliere comunale, amministratore di Duino a Orisina. Ho sempre cercato di lavorare per il territorio, con il territorio. Non ho mai cercato la visibilità. Io sono sempre quello che mi metto sempre dietro al gruppo delle fotografie e quindi non è certamente per visibilità e soprattutto per cercare di andare avanti su un programma di mandato per cui siamo stati eletti e sul quale vogliamo portare a termine. Qual è stato, Romita, il punto di rottura? Ci sono diversi punti di rottura. Il mancato ascolto su diverse situazioni, parliamo degli aiuti alle imprese e nella predisposizione del bilancio previsionale noi avevamo indicato di mandare avanti una proposta che dia risposta alle aziende che erano state chiuse da fine ottobre a febbraio che appunto hanno subito la chiusura per il Covid, la chiusura per le aziende. Abbiamo dovuto aspettare settembre, paro ottobre per dopo vedere solo una parte di queste aziende che hanno avuto risposte. Abbiamo chiesto rispetto, rispetto di quello che sono le proposte del gruppo Alleanza per Duino a Orisina che si è creata non certamente per andare in contrasto ma per portare avanti quelle sinergie e soprattutto quella vicinanza alla comunità locale. E su questo abbiamo cercato, insieme al capogruppo Chiara Puntar ma anche ai consiglieri De Vita e Pernarci, di ascoltare maggiormente la popolazione. E questo che abbiamo chiesto è questo che sono i momenti di frattura. Si recupera? Per fare la pace bisogna essere in due. Quando da una parte trovi il muro è difficile rifire a far pace. Io con Daniele ho condiviso 20 anni di amministrazione, di battaglie. Siamo stati nel 2002, le state lette nel 2002. Abbiamo portato avanti numerose battaglie. Nel 2016 e 2011 è stata letta anche in consiglio provinciale. Abbiamo condiviso veramente una vita di amministrazione e quindi io spero proprio nell'amicizia che ci lega e si riesca a trovare un punto di quadra soprattutto per proseguire il proprio mandato ma soprattutto per tornare a portare avanti i progetti per cui siamo stati eletti. Anche perché mi sembra, se non vado errato, che le elezioni sono il prossimo anno, è corretto? Le elezioni sono nel 2022. Da parte nostra c'era tutta la disponibilità a trovare la quadra per il supporto di Daniele Pallotta alle elezioni prossime, però in questo momento vediamo con questa frattura, questa rottura, sicuramente dobbiamo rivedere e ripensare tutto. Grazie allora a Massimo Romita, Assessore al Turismo al Comune di Duino per essere stato con noi. Buona giornata e buon lavoro. Grazie a tutti voi. Buonasera. Allora, abbiamo ancora qualche minuto di diretta. Io direi che possiamo andare a leggere le pagine online dei quotidiani così vediamo se ci sono delle novità. Anche se, insomma, se vogliamo la novità più sostanziale resta quella del dietrofronto del governo per quanto riguarda la DAD. Ripeto, non vale la circolare che introduceva automaticamente la DAD nel caso di un contagiato, di un positivo, che sarebbe stato sufficiente, un positivo in ogni classe. Questo rimane per quanto riguarda i più piccoli, poi nel telegiornale vi spieghiamo meglio la situazione. Intanto vi anticipo, già che ci siamo, anche la pagina Meteo, vediamo quella che è la situazione generale, che vede per domani l'arrivo di un fronte atlantico che interesserà il Friuli Venezia Giulia e sarà più attivo sulla fascia di confine con la Slovenia. Venerdì affluirà aria fredda e secca da nord. Per domani dunque si prevede cielo coperto con precipitazioni deboli o anche assenti a ovest, moderate ad est, forse anche abbondanti sulla zona di Trieste. Quota neve oltre 800 metri circa, nel Tarvisianos oltre 600 metri circa. Nel pomeriggio soffierà bora moderata o sostenuta sulla costa. Allora andiamo a vedere la pagina online del Corriere della Sera, abbiamo ancora qualche minuto di tempo. Dunque cambiano le regole, in zona arancione si esce dal comune solo con il Super Green Pass, multe controlli, le novità da lunedì. Speranza al via la terza dose per i dodicenni, l'Unione Europea pronte le dosi Pfizer per i bambini. Quindi vediamo se c'è una discussione sulla California, dice Federico Rampini che da qualche tempo, da qualche giorno ha iniziato a scrivere sul Corriere della Sera il declino di un modello, furti, tasse, povertà, affari, la crisi da San Francisco a Los Angeles. C'è ancora l'inchiesta sulla Juventus, sognavamo di raggiungere il Real Madrid, Plus Valenza e John Elkan, collaboriamo col PM e confidiamo di poter fare luce sulla vicenda. Per quanto riguarda invece la giornata mondiale contro l'AIDS c'è la testimonianza di Fabio Cantelli, io e il virus viviamo dall'85 in una specie di simbiotica convivenza. Fabio Cantelli è conosciuto, diciamo così, perché è uno dei protagonisti, anche se il termine forse improprio del documentario su San Patrignano. Reato paragonare i vaccini all'olocausto in Germania condannato un Novax e era ora, francamente, perché certi nuovi abomini è meglio stroncarli sul nascere. Andiamo ancora avanti, vediamo se c'è qualche curiosità. Prima della scala la Netrebco sarà una lady, non posso dire il cognome, al centro di effetti speciali, cambi di scena e balli. E infine, quesito sbagliato per i due per mille del Movimento 5 Stelle, i crimi si difende solo un refuso. Insomma, direi che per questa anteprima del telegiornale è tutto, adesso andiamo in pubblicità, poi siamo pronti a partire con il telegiornale delle trevici eventi. Ci vediamo fra un po', dopo la pubblicità. Buongiorno telespettatori di Telequattro, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. C'è stata questa mattina in Prefettura una nuova riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Allargata ai rappresentanti delle categorie economiche per un coordinamento dei controlli sul nuovo Green Pass potenziato. Al termine abbiamo sentito il Prefetto Annunziato Vardè. Sentiamo l'intervista di Laura Buccarella. Nella riunione del Comitato di stamattina abbiamo sentito i rappresentanti delle associazioni di categoria sensibilizzare gli operatori economici e quindi per quanto riguarda le associazioni di categoria tutti i loro iscritti ad un rigoroso rispetto, ad una rigorosa applicazione della normativa sul Green Pass rafforzato e su tutte le altre regole finalizzate al contenimento della diffusione della pandemia, perché solo così potremo evitare un peggioramento della situazione, perché peggioramento potrebbe significare zona arancione o addirittura zona rossa. La zona rossa significa il disastro per l'economia e dobbiamo assolutamente scongiurare questa ipotesi, questa evenienza. Devo dire che i rappresentanti degli operatori economici si sono dimostrati molto sensibili su questo tema, hanno assicurato tutto il loro impegno e hanno garantito che saranno avviate opportune iniziative per la sensibilizzazione dei loro iscritti e degli operatori economici in genere. Dietro fronte del governo sulla DAD, la didattica a distanza scatterà solo per la scuola di infanzia, nel caso in classe si registri un solo positivo. Vediamo. Cominciamo dai dati che per il retroscena c'è tempo. La didattica a distanza continua a scattare con un solo positivo in classe per i bambini fino ai 6 anni. Per la scuola d'infanzia dunque, dove risulta più difficile mantenere il distanziamento e le mascherine, non sono obbligatorie. Nella fascia fra i 6 e i 12 anni, per i quali non è ancora prevista la vaccinazione, ma anche per i più grandi se non vaccinati, la DAD scatta con due alunni positivi per classe. Si ricorre alla didattica a distanza dai 12 anni in su, se i casi positivi risultano essere almeno tre in una classe. Insomma, la lotta alla pandemia, perlomeno per quanto concerne il mondo della scuola, resta uno degli scogli più difficili. La giravolta sulle quarantene registrata ieri ne è la prova ulteriore. A sbloccare la situazione più che altro, il fatto che la struttura, coordinata dal generale Figliuolo, intensificherà le attività di testing nelle scuole per potenziare il tracciamento. Il governo lo aveva detto al momento dell'insediamento e lo ha ribadito ieri anche se in maniera non ufficiale. Garantire lo svolgimento delle lezioni a scuola in assoluta sicurezza è una priorità e sulla base di tali assioma, dopo un approfondimento con il Comitato Tecnico Scientifico e con lo stesso generale Figliuolo, una circolare congiunta dei Ministeri della Salute e dell'Istruzione, che in ragione della crescita dei contagi disponeva la didattica a distanza in presenza di un solo positivo per ogni classe, è stata dunque sospesa. Intanto si attende il pronunciamento dell'AIFA sull'autorizzazione al vaccino anti-coronavirus nella fascia 5-11 anni. Non sembra scontato che si arrivi ad un via libera per tutti. La Commissione Tecnica dell'Agenzia Italiana del Farmaco ha assoluta indipendenza, potrebbe approvare un vaccino per i bambini con indicazioni e delle prescrizioni anagrafiche in base alle caratteristiche degli stessi bambini. Preoccupa però il mondo della scuola e il dietrofronto sulla DAD in questo senso, secondo il Cobas, significa non voler risolvere i veri problemi. Sentiamo. All'interno del complesso universo scuola c'è chi è convinto che il dietrofronto del governo sulla DAD altro che aver risolto il problema. La DAD era uno strumento di emergenza che doveva essere archiviato quanto prima, continua a essere uno strumento per una scuola che ha tantissimi problemi per cui la DAD è solo una parziale soluzione. Secondo il professor Zotti il solo fatto che Palazzo Chigi insista sulla didattica a distanza è la prova che non si vuole affrontare quei problemi per certi aspetti endemici del nostro sistema scolastico, la cui soluzione potrebbe essere un'arma contro la pandemia. Parlo delle ormai mitiche classi pollaio, cioè siamo con studenti 28, 29 studenti in una classe dove non viene rispettato neanche il metro di distanza, il metro buccale, cioè il metro di distanza perché si può andare in deroga. Quindi la difficoltà ad arieggiare, la difficoltà ad esempio a stare in scuole dove c'è un organico non adeguato. Senza contare, aggiunge Zotti, che le ripercussioni della DAD si stanno facendo sentire sempre più nell'atteggiamento degli studenti. Si è perso il ritmo, si è perso il fare scuola, lo stare insieme ed è difficile e ancora è molto difficile perché stare con la mascherina, stare 5-6 ore a scuola, obbligati a mantenere le distanze che non è facile per le ragazze e per i ragazzi, indubbiamente sta portando una fatica, una maggiore fatica di concentrazione e di attenzione. Forse però il dato più preoccupante è un altro, che cioè i ragazzi elaborando quanto sta succedendo arrivino a conclusioni certamente non positive. Anche gli studenti stanno perdendo fiducia nel sistema scuola, proprio perché vedono che stiamo andando, navigando a vista, come si usa dire. È la peggior pagina scritta dal Consiglio Comunale, causa e contra, seletti nella maggioranza che hanno poi tradito ed oggi sono alleati con la minoranza. Per colpire il sottoscritto hanno impedito il finanziamento di fondamentali servizi sociali ed educativi e di progetti di grande importanza per lo sviluppo di Gorizia. È una vergogna. Il sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna, attacca pesantemente i consiglieri comunali che ieri hanno bocciato l'assestamento di bilancio. Con questo gesto sconsiderato sono state colpite le fasce più deboli, come gli anziani e i malati di tutto l'ambito, perché non ci saranno fondi per accudirli nelle loro case, lavarli, dare loro da mangiare e anche i disabili saranno penalizzati nell'assistenza. Non solo Ziberna mette in luce, con la mancata approvazione dell'assestamento di bilancio, come venga penalizzato anche tutta una serie di importanti progetti per il futuro della città. Mancheranno i finanziamenti al GECT, penalizzando la capitale europea della cultura, sottolinea Ziberna, ma salta anche l'intervento di un milione per la Casa del Cinema, sede della Mediateca e del corso di laurea Dams. E l'elenco è ancora lungo. Ce ne occuperemo anche nel telegiornale di questa sera. Intanto sulla possibilità della presenza di esponenti Novax in giunta comunale è intervenuto il segretario provinciale di Fratelli d'Italia, Claudio Giacomelli. Ci siamo spostati a Trieste. Giacomelli ha chiarito la posizione dei militanti del suo partito. Sono tutti in linea con le normative vigenti per l'accesso alle sedi istituzionali. Vediamo il servizio di Bernardo Gulotta. Il segretario provinciale di Fratelli d'Italia, Claudio Giacomelli, lo dice chiaramente. Basta con queste polemiche strumentali. Tutti gli esponenti del partito rispettano le normative a oggi in vigore per partecipare alle sedute degli enti locali. La sua parola vorrebbe mettere il punto sulla polemica rispetto alla presunta presenza di assessori non vaccinati all'interno della giunta. Perché proprio, Fratelli d'Italia, le posizioni sul Green Pass, la linea nazionale di opposizione, facilita i più a pensare che se dovesse esserci qualche contrario alla profilassi, questo o questa sia appartenente al movimento di Giorgio Meloni. Laddove però, va precisato, ognuno è libero di intendere personalmente come affrontare la pandemia e che la sioma fra la linea del partito e la scelta personale non sia per forza così vincolante. Chiudo qui la vicenda per quanto mi sembri un'idiozia, un'idiozia colossale. Fratelli d'Italia ha chiesto di fare anche i consigli comunali in presenza. I consiglieri di Fratelli d'Italia sono già stati in aula. Il consigliere regionale di Fratelli d'Italia va in aula. Le nostre posizioni sul Green Pass e sul Super Green Pass sono note. Ciò premesso, tutti gli esponenti di Fratelli d'Italia rispettano le normative che arrivano dallo Stato per poter partecipare alle assemblee degli enti locali. Ora, se l'opposizione vuole in questo momento dare una mano per l'emergenza della città, benvenuta. Se no, insomma, non vale la pena neanche più rispondere. Dalla posizione di Giacomelli però, va detto, la vera parola fine non arriva nemmeno oggi lasciando quel margine di dubbio per via del fatto che avere il Green Pass non significhi necessariamente essere vaccinato. Ma sfumature a parte sono le priorità che pone Giacomelli in evidenza siano i veri argomenti da dover trattare al momento. Io vorrei dire all'opposizione, in particolare a Francesco Russo, che siamo il primo dicembre del 2021, la campagna elettorale è finita e l'ho avviso anche che ha perso. In questo momento la Giunta deve governare la città, abbiamo un problema delle scuole, di tenerle aperte durante l'emergenza sanitaria, abbiamo un problema di seguire i lavori pubblici, dobbiamo sostenere le nostre attività, dobbiamo rilanciare il turismo, dobbiamo fare una valanga di cose per questo comune. E lui, in questo momento, e loro, l'opposizione, si interessano di questo. per il rifiuto di fornire le proprie generalità. I due erano a bordo di un convoglio privi del titolo di viaggio. A Udine gli agenti hanno denunciato per danneggiamento aggravato un cittadino comunitario che aveva preso a calci e pugni una porta della stazione. Nei confronti dello stesso è stato emesso un provvedimento in materia di DASP urbano, ovvero l'allontanamento dalla stazione. Adesso vi facciamo vedere il servizio di Bernardo Gulotta relativo ad una mostra a Gorizia che propone alcuni lavori realizzati dalle suore orsoline. La mostra è realizzata dall'ERPAC. I quasi 350 anni di storia delle orsoline a Gorizia non potevano passare inosservati. A loro e al percorso delle madri orsoline, alle creazioni e ai legami storici che hanno intrecciato con la città, è dedicata la mostra Tra terra e cielo, i meravigliosi ricami delle orsoline. Inaugurata il 30 novembre a Gorizia è organizzata dall'ente regionale patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia, l'ERPAC, e allestita nella sede di Borgo Castello dei Musei Provinciali di Gorizia. ERPAC ha voluto iniziare con questa mostra le celebrazioni dei 350 anni della presenza delle madri orsoline a Gorizia, ma in particolare ha voluto celebrare una importante acquisizione che abbiamo fatto lo scorso anno attraverso l'acquisto dei paramenti sacri delle madri orsoline, della quadreria, dei mobili della sagrestia, un acquisto importante che è stato reso possibile e le grazie anche al contributo della regione Friuli Venezia Giulia e che ha consentito di mantenere a Gorizia un patrimonio straordinario. Le sale museali espongono tessuti ricamati, paramenti sacri, pizzi, modelli e cartoni da ricamo e da merletto, opere che l'assessore regionale alla cultura Tiziana Gibelli, sorpresa dalla qualità della mostra, loda in modo marcato accanto all'esperienza delle orsoline a Gorizia, definendola un'eredità di grande prestigio che testimonia come le suore appartenenti a quest'ordine non avessero una vocazione esclusivamente dedicata all'educazione, ma anche a un particolare tipo di creazioni artistiche dimostrando di possedere creatività e talento. Ho scoperto un mondo fatto di donne che avevano un'immaginazione pazzesca, che oggi potremmo dire gli animali strani che disegnavano potevano essere un ricordo di Hieronymus Bosch, poverete, non spera neanche dove era Hieronymus Bosch e come erano i suoi quadri, quindi era la loro fantasia che le portava a esprimersi in modo assolutamente artistico, le opere che sono esposte, i lavori che sono esposti non sono lavori, sono opere d'arte, come potrà vedere chiunque venga alla mostra. Chiudiamo con il meteo, vediamo la previsione per domani, cielo coperto con precipitazioni deboli o anche assenti a ovest, moderate ad est, forse anche abbondanti sulla zona di Trieste, quota neve oltre 800 metri circa, nel Tervisiano oltre 600 metri circa, dal pomeriggio soffierà bora moderata o sostenuta sulla costa. Ci vediamo alle 17.30 con Trieste in diretta e il telegiornale torna alle 19.30. Buon pomeriggio a tutti, arrivederci.